Ciao sono la dottoressa Giulia De Angelis, collaboratrice del dottor Max, io mi occupo di leggerti i vari foglietti illustrativi dei profilattici o preservativi, dei quali ne consiglio assolutamente l'uso a scopo preventivo di gravidanze non desiderate e molte patologie fastidiose e pericolose. In questo video esaminiamo il profilattico preservativo. 144 preservativi classici Pamitex bianco, 52 mm. Se sei alla ricerca di condoms di buona qualità, affidabili e resistenti, senza spendere una fortuna, questo è il prodotto giusto per te. I Pamitex bianco sono preservativi classici realizzati in lattice di gomma naturale, dotati di serbatoio e ben lubrificati al fine di ridurre l'attrito e favorire la penetrazione. Hanno una lunghezza di 185 mm e con 52 mm di larghezza nominale possono essere indossati da chi ha una taglia S-M. Pamitex è un produttore italiano di preservativi che rispetta gli standard qualitativi e di sicurezza attraverso controlli attenti e minuziosi su ogni singolo profilattico. Spero di esserti stata utile, metti un mi piace, a questo video e iscriviti al canale, per usufruire di tutti i servizi informativi dedicati alla tua salute. Grazie e buon proseguimento dalla dottoressa, Giulia De Angelis. Ci vediamo al prossimo profilattico esaminato.